zero si devi spostarlo sulla telecamera eh si sta parlando se c'è 045 ecco che lo vestono sta per partire c'è il bollino rosso che lampeggia ok la cuffietta è fantastica eccomi un vero sogno l'hai fatto? l'ho fatto vabbè questo è meglio dai su ma questo a che serve? tre nozze non me la montano loro ragazzi si l'avevo visto se l'avevo visto grazie che scappano i giochi a te ragazzi chi va dopo di lui? bagli occhiali? vai vai stanno a partire guarda se devo fare questa cosa eh te lo sto facendo il video devo fare il video chiudi il video sto riprendendo giusto? vai ti riprendo vai mamma mia se non lo riprendo questo mi picchia si può fare una ripresina così? ah da lì vabbè dai quello è il gesto scemo che bello però ma ma cascano le cose dai tasche che so se ci facevano buttare arrivati è un mazzo è già arrivato ci hanno messo un attimo infatti sì un attimo eh e che ce l'ho in discesa? ma io vi asciari tornate qua? no io che sto a fare qua come un imbecille? poi io andavo qua no ci dovete scendere giù voi? eh io sto da sola come scendo? la macchina qual è macchina? no io la macchina di fra non so ah non sai allora non lo so ma gli altri non salgono? no aspettavo giù ah proprio non salgono? no io che cazzo faccio qua? ma guarda che situazione io lo sapevo sì stiamo facendo il video ma ma ragazzi ma quindi voi non risalite nessuno su? sì sì alla fine ma risalite? no ho capito di no sì 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 mamma mia come va fra? come va? oddio mi fa ridere non parla più ah ma la GoPro è girata verso l'interno sai verso la faccia le braccia dietro fra come devi volare come un angelo come un uccello non parla più francè sappi che è l'ultimo volo ma no ma che magari? ecco datela ah sei grattato ma come magari? ma che magari? non sta in palla ragazzi c'è i clienti che ti aspetta hai capito c'è il vecchietto con l'ostoporosi come fa adesso? sta in palla esatto non gli dite niente si sta concentrando per capire come si deve mettere perchè se non capisci come si deve mettere potrebbe morire addio fra ma le braccia per forza lì dietro devono stare che spettacolo cioè tipo davanti al petto ma io pure andavo da solo porca madonna meglio in coppia eh eh ti fai coraggio infatti in coppia c'è altra cosa poi dividi la sorte eh sì più o meno quant'è questa tipo c'è di spagna ma io la devo andare a scendere ma che carini che siete voi insieme ma chi insieme? no loro due dico Simone e Laura vabbè ma ho finita la batteria qua ma niente io non lo lanciano più ma c'è la festa? c'è una foto qui? sì ci sei? vai c'è un problema c'è la vostra luce del cavolo ma riprendi la città ma fai a me sapere se no lo stai aspetta ma come lo stai no ma poverino ma come lo stacca ma capito c'è un problema forse lo deve staccare l'hanno sbattuto? no niente ma capolato no può succedere ogni tanto ma non succede spesso uno su dieci che non frena la rio ma che davvero? questo è il nono questo è il nono linda ce la fai? eccolo un momento proprio critico è andato addio dove stai? tocca a noi ragà tenetemi qua ma io non lo vedo eh vabbè qui mi devo tenere per le braccia eh? qui mi devo tenere per le braccia eh? allora girate sto meglio ma i piedi ma i piedi come c'è il problema? come c'è il problema? come c'è il problema? come c'è il problema? vabbè fammi sapere se non lo stacco che vuol dire c'è un problema? eh? che vuol dire c'è un problema con le corde? se c'ha le corde rosse e quando arrivi non ti frena e vai andando ah no no ah è una battuta no lo so vela rossa montata partito sei pronto? si sono pronto sono pronto c'è il problema oh 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 Aperlì Eta yeee Abeli! è stato fantastico meraviglioso